Violet viveva con sua nonna. La ragazza è rimasta orfana a nove anni e dopo la morte dei suoi genitori, sua nonna l'ha presa con sé. La donna ha preso sul serio l'educazione della nipote, l'ha aiutata con i suoi studi e ha instillato in lei i valori dell'educazione e della compassione, della gentilezza e della giustizia. La donna ha lavorato tutta la vita come infermiera in un ospedale e Violet correva spesso in ospedale dopo la scuola e cercava di fare qualcosa per aiutare. La ragazza accudiva i pazienti, li rallegrava con la sua innocenza e la sua spensieratezza, li intratteneva con racconti mozzafiato e ben presto tutti i pazienti e anche il personale si affezionarono moltissimo alla bambina. La ragazza si è sentita a casa in quell'ospedale e la maggior parte dei medici e delle infermiere le hanno detto che sarebbe potuta diventare un'ottima dottoressa, le hanno consigliato di studiare chimica e biologia e di provare ad entrare a medicina dopo il college. E così Violet lo ha fatto. Non ha avuto problemi con la missione e le lezioni alla facoltà di medicina, ma durante il quarto anno sua nonna si ammalò gravemente e Violet dovette accettare un lavoro part-time come infermiera in quel reparto ospedaliero in cui aveva trascorso i suoi pomeriggi fin dall'infanzia. La mattina frequentava le lezioni, il pomeriggio si prendeva cura della nonna e la sera era di turno in ospedale. Un giorno, durante uno di questi turni, un giovane è stato portato in ospedale con un grave trauma cranico ed era privo di sensi. Violet era rimasta profondamente turbata da quanto fosse giovane il nuovo paziente e aveva cominciato a sedersi al suo capezzale nei momenti liberi del suo turno. Sono trascorsi così tre giorni, poi finalmente il ragazzo ha ripreso conoscenza. Appena aperto gli occhi ha trovato Violet, la quale gli ha spiegato che era stato portato al pronto soccorso con un grave trauma cranico. Il giovane non riusciva a ricordare nulla, nemmeno dove viveva o chi fossero i suoi genitori, ma poteva fornire ai medici e al personale dell'ospedale il suo nome, Sean. Sean era terrorizzato dal fatto che non riuscisse a ricordare niente ed era stata proprio Violet a calmarlo, spiegandogli che questo genere di amnesie è molto comune dopo un trauma cranico. E così è cominciata la loro amicizia, un'infermiera e un giovane paziente. Gradualmente Sean ha iniziato a sentirsi meglio, ma la sua memoria non tornava. Violet ha cercato di aiutarlo, gli ha parlato, ha nominato date, indirizzi e nomi, ma niente sembrava aiutare. Il medico consigliava di aspettare, magari con il tempo qualche evento, odori o parola avrebbe riportato alla mente i ricordi del giovane. Un mese dopo Sean stava bene fisicamente ed era pronto per essere dimesso. Violet era preoccupata per il suo amico perché non ricordava ancora niente e non aveva nessun posto dove andare. Il dottore lo avrebbe trasferito in una struttura di riabilitazione adeguata, ma Violet aveva già deciso. L'avrebbe ospitato lei. Dopo il lavoro è andata dritta a casa per parlare con sua nonna. Nonna, ti ricordi che ti ho parlato del mio paziente con l'amnesia, Sean? Beh, Sean sarà dimesso dall'ospedale domani e non ha nessun posto dove andare. Non voglio che finisca in un centro per malati mentali. Può restare con noi per un po', ha chiesto. La nonna ha carezzato i capelli di sua nipote e con un sorriso ha risposto. Certo, tesoro. Ti ho insegnato io stessa la compassione, quindi lascialo stare con noi. Mi hai parlato così tanto di lui che a questo punto non vedo l'ora di conoscerlo. All'inizio Sean era imbarazzato nel sentire l'offerta della ragazza, ma Violet si è rivelata molto insistente. La ragazza poteva immaginare che avesse paura di pesare su di lei e su sua nonna, così gli ha spiegato la situazione a casa. Lei passava tutta la giornata a destreggiarsi tra le lezioni e i turni in ospedale e sua nonna era costretta a letto. Di sicuro Sean avrebbe trovato qualcosa da fare, un modo per rendersi utile e ripagare Violet e sua nonna della loro ospitalità. Alla fine il ragazzo ha accettato e si è trasferito a casa della nonna di Violet. All'anziana signora Sean è piaciuto da subito, era un ragazzo premuroso, simpatico e umile e si offriva sempre di dare una mano con le faccende domestiche e con la spesa. La nuova vita in quella casa trascorreva serena e la convivenza andava bene, ma il cuore di Sean era pesante. Non era ancora riuscito a ricordare nulla della sua vita prima del risveglio in quella stanza d'ospedale. Un giorno Sean e Violet hanno deciso di fare una passeggiata al centro commerciale. Il nome del grande magazzino suonava familiare al ragazzo, anche se non riusciva a capire il perché. Ma quando un uomo dai capelli brizzolati gli ha ferrato la manica della camicia e lo ha chiamato figlio mio, il ragazzo è impallidito e il cuore ha cominciato a battergli all'impazzata nel petto, tanto che ha perso conoscenza. Quando ha riaperto gli occhi, vicino a lui c'erano Violet e quell'uomo, che lo guardavano preoccupati. Ora, ora ricordo, ha balbettato Sean. Sean proveniva da una famiglia benestante, che era proprietaria proprio di quel centro commerciale. Quel terribile giorno era andato in un locale per bere un caffè e sedersi in pace a controllare la sua posta elettronica e rispondere ad alcune email, quando aveva notato un mendicante. Indossava vestiti vecchi e luguri e starnutiva, e il ragazzo si era sentito così male per quel povero uomo che aveva deciso di offrirgli la sua giacca, più calda e decisamente più adatta. Il padre di Sean è scoppiato in lacrime. Settimane prima, la polizia lo aveva contattato e gli aveva detto che avevano ritrovato il corpo senza vita di suo figlio. Era talmente tumefatto da risultare irriconoscibile, ma suo padre, con il cuore spezzato, l'aveva identificato proprio grazie a quella giacca. Quel momento era stato il più difficile della sua vita, e non avrebbe mai potuto pensare che un giorno avrebbe rivisto il suo adorato ragazzo. Ma il racconto di Sean non era ancora finito. Dopo l'incontro con il mendicante, Sean aveva fatto una passeggiata e senza nemmeno rendersene conto era finito in una zona della città particolarmente malfamata e che non conosceva. L'ultima cosa che ricordava era di essersi imbattuto in un gruppo di criminali che lo ha cerchiato. Poi si è risvegliato in quella stanza d'ospedale in cui aveva incontrato il suo angelo custode, Violet. Dopo quel racconto, il padre di Sean ha abbracciato la ragazza e l'ha ringraziata per avergli ridato suo figlio. Lei si è limitata a dire che era stato un piacere, e poi si è allontanata con il cuore in suo buglio. Era felice che Sean avesse ritrovato la memoria e si fosse riunito a suo padre, ma sapeva anche che questo significava che lei lo avrebbe perso. È salita su un taxi mentre Sean veniva inghiottito di nuovo nel suo mondo che lo aveva piantato negli ultimi due mesi. E quando è arrivata a casa è crollata in un pianto disperato. In quelle settimane con lui si era innamorata di Sean, ma ora che aveva recuperato la memoria e lei aveva scoperto che proveniva da una famiglia ricca, lei che era una semplice infermiera non aveva alcuna possibilità con lui. La povera Violet era disperata, ma ancora una volta sua nonna sapeva come aiutarla. L'ha abbracciata e le ha detto che tutto si sarebbe sistemato. Sean era un bravo ragazzo e non l'avrebbe mai messa da parte solo perché all'improvviso si era ricordato che provenivano da mondi diversi. L'anziana signora ne era sicura. Tuttavia è passato un mese e Violet e sua nonna non avevano ancora avuto nessuna notizia di Sean. La nonna era molto arrabbiata con il ragazzo che aveva spezzato il cuore di sua nipote, ma era anche confusa. Aveva conosciuto Sean e non si sarebbe mai aspettata un comportamento del genere da lui, ma le cose stavano per cambiare. Dopo più di un mese di silenzio, una sera Violet è tornata a casa e ha trovato sua nonna in cucina che conversava con Sean. I due stavano chiacchierando davanti ad una tazza di tè caldo e quando ha visto la ragazza entrare, Sean si è immediatamente alzato e si è precipitato da lei. Si è scusato per non essersi fatto vivo prima, ha spiegato che aveva dovuto rimettere in piedi la sua vita, ma non l'aveva certo dimenticata. Anzi, l'amava dal primo giorno in cui l'aveva vista, da quando aveva riaperto gli occhi in quel letto d'ospedale. Violet ha ascoltato la dichiarazione d'amore del ragazzo con le lacrime agli occhi e quando lui si è inginocchiato e ha tirato fuori un anello, la giovane infermiera non riusciva a credere che una persona potesse sentirsi così felice. Si è gettata tra le sue braccia e l'ha stretto forte a sé prima di pronunciare la parola più bella del mondo. Si. Tre anni dopo, la vita di Sean, Violet e di sua nonna è cambiata completamente. I due giovani innamorati si sono sposati e hanno dato il benvenuto al mondo al loro primo figlio. Violet è diventata un'ottima infermiera e sua nonna è felice di avere di nuovo un bambino piccolo da ricoprire di amore e cure. Con il tempo, l'amore di Sean e Violet si è fatto più forte e i loro passati diversi non hanno mai intralciato il loro bellissimo matrimonio. Si sono costruiti una famiglia felice e una casa grande e finalmente Violet ha avuto ciò che sognava. Questo è tutto per oggi ragazzi, se questa storia vi è piaciuta cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.